Radio Gold presenta L'Intervista, programma di approfondimento giornalistico ideato e condotto dal direttore Gigliola Marinetti. Buonasera, nuova puntata dell'intervista dedicata al mondo della notte. Si parlerà della discoteca di Fabriano, il Bohemia Music, con tante iniziative partita alla grande la nuova stagione e con me ci sono tanti personaggi che stanno facendo il presente ma anche fanno parte della storia del mondo della notte fabrianese. Quindi saluto innanzitutto Nicola Paccapello che è uno dei titolari di Bohemia Music. Buonasera, buonasera. Abbiamo in regia un altro ragazzo che è DJ Pato che salutiamo del staff del Bohemia. Poi Mauro Gagliardini DJ. Buonasera a tutti. Luciano Marini in arte DJ Shubi. Grazie. Buonasera. Pronto. Pietro Cerini, il famoso DJ Cerino e con me Simone Chiodi di Pasta Fabriano Ristor Art che conosciamo. Ciao Simone, benvenuto. Allora, grande richiesta Nicola, torna la cena spettacolo del Bohemia, targata Bohemia, quindi è già un successo di suo perché sono diversi anni che c'è questa iniziativa, con grande novità della giunta della Pasta Fabriano, poi ne parleremo con Simone nel menù della cena spettacolo. Buonasera a tutti, presentiamo questo format che portiamo avanti ormai da molti anni, fin dall'era, dai tempi dell'era. Siamo stati fermi appunto i due anni di Covid e poi l'abbiamo riproposto appunto nel nuovo locale, Bohemia Music. Quindi rinnoviamo anche la collaborazione con Ristor Art, appunto quest'anno abbiamo questa novità sulla Pasta Fabriano, ma poi ce ne parlerà Simone. E' un format molto richiesto anche perché va a puntare a quella fascia di età diciamo più grande. Piace molto questo format anti-90, perché Nicola? Piace molto perché ci riporta indietro in un decennio a cui molti siamo legati. Forse il decennio a livello musicale più ricco, più corposo, dove si può spaziare veramente da molti generi musicali e inevitabilmente ci riporta indietro alla gioventù e quindi un periodo dove non c'era crisi, dove era tutto più semplice e quindi molto sentito da tutte le persone, ma anche da qualche ragazzo un po' più giovane come me che abbiamo vissuto diciamo gli ultimi anni degli anni 90. Allora Mauro Gagliardini, da sempre sul pezzo con Radio Studio Più, sei nelle piazze di tutta Italia, conosci a mena dito quella di Fabriano. Un format 90 special ti vedrà in Mail Room il 26 di ottobre, quindi ricordiamo anche la data, con Fabian Pisar e con la voice di Alex F. Come sarà la serata della Mail Room targata Mauro Gagliardini? Buonasera a tutti, intanto sono molto contento di stare qua con voi e di fare la serata al Bohemia, soddisfatto di venire a Fabriano, fare una bella serata, anni 90 la musica più bella come diceva prima degli ultimi, il dicenno più bello della musica. Esatto. Giusto Pietro? Certo. Sicuramente ci divertiremo tantissimo, perché con quella musica ballano tutti, cantano tutti e vedo spesso quando faccio queste serate anni 90 anche i più giovani che sono molto attenti, comunque sentono questi pezzi e gli piace moltissimo ballarli. Lei mi voglio tornare negli anni 90, è più che attuale? Molto più che attuale. Allora io vorrei parlare con questi due mostri sacri, che hanno fatto comunque la storia del mondo della notte fabrianese, questo lo possiamo dire. Luciano, com'è cambiato questo mondo della notte? Sarai presente con Pietro nella sala Musa, con Bohemia Rhapsody addirittura, quindi è qualcosa di importante, con in console Cerino e Shubi. Come sarà questa serata? Ma com'è cambiata la musica e il mondo della notte? La musica è cambiata perché adesso è una cosa un po' diversa dagli anni 90, perché negli anni 90 la gente cantava, adesso più che cantà parlano, chi fa la musica parlano, la notte, quindi è più bello negli anni 90 che adesso. Come era l'approccio anche, parliamo dei locali notturni, all'epoca c'era, negli anni 70 avevamo dei locali dove c'era proprio un luogo di incontro, adesso c'è il contatto fisico tra le persone o è molto più isolato? Un po' di meno, una volta ci si divertiva di più, eravamo più tranquilli, meno problemi. Posso intervenire? Assolutamente sì. La differenza tra una volta adesso, una volta si andava solo per ballare, adesso si va solo per apparire nei locali, i ragazzi stanno col telefonino, si fanno i selfie, quasi nessuno interessa la musica, magari ballano quei due o tre minuti che sentono il pezzo della hit, una volta si andava a ballare, una volta era bello mettere la musica perché tu mettevi il disco e chi stava lì lo voleva ascoltare dall'inizio alla fine, adesso è tutto veloce, tanto con internet è tutto rapido, i ragazzi vanno avanti tra una canzone e l'altra senza neanche ascoltarla, per cui è finita tutta questa cosa. Però il bello è che comunque facendo questi eventi si ritorna a far ascoltare la musica. Questo è positivo. Sicuramente chi verrà là a ballare si divertirà sicuramente perché io faccio delle serate in piazza, anche discoteche importanti e riesco a portarle fino alle 4 di mattina, alle 5 che ancora ballano e se spegni la musica cominciano a fischiare. Come una volta. E quello è il bello, perché stanno lì per ascoltare la musica. DJ Cerino, com'è ritornare al Bohemia in mezzo ai ragazzi che comunque seguono il vostro? Bene o male ogni tanto ci sto, vero Riccola? Com'è? Che approccio diverso c'è oggi con questi ragazzi? Allora una volta praticamente aspettavi il sabato per andare a ballare, invece adesso vai in un bar c'è la musica, vai da un'altra parte c'è la musica, quindi non riesco a dire che è diventata non come una volta, che c'era proprio il piacere andarcela. Forse questa è la cosa che... Sono tutti spunti. Penso, no? Che dire. Prendere a punti Nicola, perché non è detto che non si possa tornare una frizione dei locali, come dice Pietro, come dice anche Luciano. Non so, la volta il sabato era... aspettavi il sabato, non so se... Sì, sì. Quando ascoltavi le novità. Tutto ascoltavi le novità. Se andava a Formula 1 a Fabriano. Sì. Era l'unico locale, era lì che era fruibile la musica, anche la domenica pomeriggio. E l'estate si andava a Cajal. A Cajal, a San Caziano, famoso San Caziano. No, famoso, famoso era il Furtino, non so, tu eri piccolino là. È il Furtino. Quella discoteca famosa di legno, dove partivano gli anni 80, 90, lì, ricordi Mauro? Io per oggi voglio un attimo intervenire su sta cosa. Vai. Nel senso, condivido l'analisi sui locali in questo momento. C'è da dire che chiaramente le discoteche negli anni 90 non erano uguali a quelle degli anni 80, le discoteche degli anni, i primi anni 2000 non erano uguali a quelle precedenti. Diciamo che ogni generazione chiaramente è influenzata dallo stato sociale, dalle abitudini, dalla tecnologia. Quindi chiaramente c'è, chiamiamola evoluzione, evoluzione come vogliamo, comunque c'è un cambiamento. Io spezzo una lancia anche a favore dei ragazzi attuali, perlomeno del nostro comprensorio, che chiaramente si affacciano alla discoteca in base alle loro esigenze. Quindi comunque i locali devono essere al passo con i tempi secondo le esigenze di chi tutti i sabati viene a ballare. Questa serata in particolare, il 90 special, con la cena spettacolo, vuole staccare sul calendario questa continuità, quindi ritornare indietro nel tempo. Infatti è una serata prettamente, adesso passate nel termine, comunque improntata per un pubblico molto adulto. Quel pubblico che chiaramente ha vissuto gli anni 90, ha vissuto i primi anni 2000, qualcuno ha vissuto gli anni 80. Qualcuno ha vissuto gli anni 70. Lo auguro, che comunque chiaramente non vengono nel gergo a ballare tutti i sabati. Ora nel nuovo progetto Bohemia ci sarà poi spazio anche per un pubblico più grande, con qualche serata dedicata. Sì, 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 appunto questa è una di queste. Abbiamo infatti pensato di rimanere in tema su tutte e tre le sale, nel senso appunto per quel sabato di tenere fuori quella fascia d'età che popola la discoteca più costantemente, quella serata rimarrà ovviamente a casa, tra virgolette, perché tutte e tre le sale si vanno a improntare appunto per un pubblico. Sì, nella sala Tokyo abbiamo i premium cocktails con i vinili cocktail and drinks, DJ Squalo con il vinile, il nostro amatissimo vinile che torna. Un altro collega qua, dei ragazzi che sono qua con noi stasera, con una selezione anni 70-80 con i vinili, quindi sarà una bella performer. Ecco, volevo fare un attimo questa precisazione. I DJ più senior, diciamo, quando si suonava con il vinile, adesso è tutto più semplice con queste nuove console. Sicuramente io sono rimasto un po' indietro. Suoni ancora con il vinile? Volendo sì, però ci vuole una console posta per finire, una bella robusta, se no si salta il disco. Però se console di giro non le trovo, è difficile trovarle. Però io sono rimasto con i cd, niente chiavette, niente di mezzo. Allora, vediamo a Simone, grande lavoro con RistorArt, salutiamo anche Fabrizio Palanca. Grazie, questo progetto di Pasta Fabriano vogliamo raccontarlo un attimo ai nostri telespettatori, nato da alcuni anni e sta andando alla grande. Allora, Pasta Fabriano è nata quasi per gioco nel 2022, è un gioco appunto tra me, Fabrizio e Fabrizio Ceccarelli. Che salutiamo. Che salutiamo, è iniziato per gioco per completare un pochettino di più la nostra azienda e gioca gioca, questa realtà sta crescendo, sta crescendo e stiamo portando una eccellenza fabrianese diciamo con il nome Fabriano in giro, non solamente per le marche, ma per l'Italia. Infatti abbiamo la nostra pasta secca su diversi supermercati, sia nel Lazio e piano piano abbiamo novità a breve, sia nella produzione che nella espansione. I grani vengono intercettati nel territorio? Sì, sono fabrianese. Quando il grano fabrianese non rispecchia certe qualità o non lo aggiungiamo alla quantità giusta, ci attingiamo comunque sia nelle marche, quindi è un grano 100% marchigiano, oltre che fabrianese. Quindi questa avventura con il Bohemia che prosegue da tanti anni già. Sì, ormai questo è il terzo anno. Doporrete dei menù con il piatto. Esatto. Quindi nel caso specifico del 26 ottobre avremo un lancio poi alla tagliatella alla matriciana. Sì, esatto. Quindi andiamo anche sui formati differenti. Esatto. Esatto. Perché allora per quanto riguarda, abbiamo sia pasta fresca che pasta secca, la nostra pasta fresca è fatta tutta con 100% sia semole che grano, tutto biologico, marchigiano. Per quanto riguarda appunto come ho già detto prima la pasta secca, invece abbiamo grano fabrianese e marchigiano. E questo è bello perché appunto è il terzo anno che lavoriamo insieme al Bohemia, e ha stretto contatto con Nicola e il bello è fare appunto il servizio anche noi a ritmo di musica e questo sinceramente ci alleggerisce anche la fatica. Quindi il personale è più felice di venire in discoteca, almeno c'è una con tutti questi DJ. È un servizio diverso, è un servizio un pochettino più difficoltoso perché comunque sia bisogna navigare in mezzo, come parte la musica, in mezzo ai ballerini. Però è un'esperienza diversa. È un menù quindi proposto dall'antipasto al dolce. Sì, sì, messe in mese andremo a variare, sì appunto dall'antipasto fino al dolce e andremo a variare questi primi piatti in base anche alle esigenze, al pubblico. E anche la stagione unità, la stagione unità dei prodotti. Bene, allora io direi Nicola, diamo appuntamento al 26. Il 26 di ottobre, quindi partenza con la cena spettacolo e poi anni 90. Poi abbiamo in Musa i due maestri qua di Fabriano con Bohemia Rhapsody. Ritorneremo un po' agli anni storici del Caciallo quindi. E poi dice Esqualo nella Tokyo con appunto selezione anni 70-80. E grande Mauro Gagliardini in my room. In grande Mauro Gagliardini che finalmente siamo riusciti ad interdettare. A Beccarlo. A Beccarlo. Ma ultimamente Mauro si sta prodigando per la città. L'abbiamo avuto anche nell'ultima edizione del Revival. L'abbiamo fatto una serata stupenda. E' bello anche stare nella nostra città. Suonare. Tantissima soddisfazione stare qua. Poi è stato anche in piazza con noi l'Anica in Festival. Quindi si ritorna tutti a fare squadra per Fabriano. Momento difficile per la città. Proprio in questi giorni stiamo assistendo alla vertenza Fedrigoni. Quindi uno spazio anche di ludico per aprire un po' la mente. E' non pensare per una sera ai problemi che purtroppo ci attainagliano. Siamo vicini ai 195 lavoratori più l'indotto. Quindi saranno dei numeri importanti. Aspettiamo questo incontro del 4 novembre al Ministero. Nella speranza che si possa perlomeno risolvere una parte del problema. Non dobbiamo mai perderla. Quindi anche continuare a proporre per la città eventi, iniziative. Fanno bene all'anima. Fanno bene alla nostra comunità cittadina. Quindi a tutti voi dico bravi. Bravo Simone con la sua attività. Bravo Nicola con il suo team, con i suoi soci. Bravi tutti voi che proponete musica e diletto. Perché fa parte della vita e è giusto che ci sia anche lo spazio per il sorriso nonostante le difficoltà. Appuntamento quindi con il 90 Special, la cena spettacolo del Bohemia. Tutte poi le altre serate troverete le info non solo sulle pagine social ma anche sul canale di Radio Gold che è media partner di questo locale. Orgogliosamente media partner, vogliamo aggiungere. Quindi appuntamento alla prossima puntata dell'intervista. Buona serata a tutti. Buona serata. Grazie. Buona serata. Ciao. Radio Gold ha presentato L'Intervista. Programma di approfondimento giornalistico ideato e condotto dal direttore Gigliola Marinelli.